a george sand parigi 26 novembre 1843 oggi domenica mi riposo e non esco ma perché voglio così non per necessità vogliate credere che stiamo bene entrambi io e moris che la malattia è lontana da me e che innanzi a me non ho che felicità che non ho mai avuto tanta speranza come ora attendendo la settimana ventura e che tutto andrà secondo i vostri desideri a george sand parigi 23 settembre lunedì ore 4 come state eccomi a parigi ho consegnato il vostro pacchetto al signor jolie è stato molto gentile ho visto la signorina de rosier che mi ha preparato la colazione ho visto franco me il mio editore sono stato da della croix che non esce di casa e abbiamo parlato per due ore e mezza di musica di pittura ma soprattutto di voi io non aggiungo altro solo che sto bene e che sono il vostro fossile più fossile a george sand parigi 5 dicembre 1844 penso che sia mattina e che voi siate in veste da camera circondata dai vostri cari ragazzi che vi prego di abbracciare da parte mia come d'immaginarmi ai vostri piedi il vostro mummiescamente vecchio chopin ci sono rimaste pochissime altre lettere del carteggio tra chopin e george sand la scrittrice bruciò quasi tutta la sua corrispondenza con il musicista dopo averla recuperata da dumas figlio il quale durante un suo viaggio in polonia l'aveva ottenuta in prestito da un amico della sorella di chopin presso il quale ella l'aveva depositata dumas figlio consegnò queste lettere definitivamente la sand che le distrusse che le distrusse che le distrusse Grazie a tutti